Un botto che squarcia alla notte i detriti metallici che vengono proiettati a grande distanza da qui, colpo al tentato, colpo al Bancomat delle Poste di Limana. Pensate, la fessura dove si introduce il Bancomat l'abbiamo trovata a 25-30 metri da qui. L'attacco esplosivo allo sportello di Piazza Piol è avvenuto intorno alle 3 e mezza di notte e nella zona se ne sono accorti in molti. Secondo le prime informazioni chi ha agito non ha fatto un grande affare e se ne è andato a mani vuote. Lo sportello è chiaramente inservibile e la presenza di numerosi frammenti a terra anche dall'altra parte di Via Roma fa comprendere la violenza dell'esplosione che ha causato anche qualche piccolo danno nei dintorni. Sul caso indaga la polizia di Stato. I malviventi sarebbero arrivati in auto dal lato ovest.